Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione siciliana di ReTV. Oggi è lunedì 8 maggio e noi apriamo il nostro telegiornale parlando del sit-in che si terrà dopodomani a Lucciardone, il sit-in degli agenti di polizia penitenziaria che fanno rete per cercare di migliorare le condizioni all'interno della struttura carceraria tra carenza di personale e crisi organizzative. Il servizio è stato curato da Luca Licata. Dietro le ragioni che stanno portando i agenti penitenziari del carcere Lucciardone di Palermo a scioperare, c'è il protrarsi di una grave crisi organizzativa all'interno dell'antico istituto di pena del capoluogo. I sindacati nelle scorse ore hanno comunicato l'interruzione delle trattative, confermando lo stato di agitazione previsto per dopodomani, mercoledì 10, giornata nella quale è stata proclamata l'astenzione dalla mensa di tutto il personale in servizio. L'elenco dei motivi che ha portato alla protesta è lungo. Un carico di lavoro eccessivamente pesante, una gestione complicatissima dei detenuti con problemi psichiatrici, le continue aggressioni al personale, l'assenza di linee guida di intervento per la gestione dei detenuti problematici, il trasferimento in altre sedi di poliziotti senza che ve ne sia stata sostituzione. Infine, la carenza di circa 140 agenti tra personale mancante rispetto alle unità previste dalla pianta organica e i distaccati a vario titolo. Insomma, i problemi non mancano, il malcontento dei poliziotti cresce, i sindacati hanno fatto sapere che l'astenzione dalla mensa di servizio rappresenta solamente il primo grado di protesta. Il prossimo 21 settembre è stata annunciata una manifestazione nazionale a Palermo. La scelta di scendere in piazza si pone come obiettivo quello di sollecitare la politica e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. L'incremento degli episodi di violenza è un fenomeno che sta interessando tutta l'Italia. Non è da meno la Sicilia, solamente una settimana fa a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, si è verificato un grave episodio. Due agenti entrati in una cella per un controllo di routine sono stati aggrediti da un detenuto. L'intervento di altri poliziotti ha evitato conseguenze peggiori per i due agenti che, trasferiti in ospedale, hanno avuto rispettivamente una prognosi di 7 e 30 giorni. Ad alzare la voce in quell'occasione il sindacato Paul Giust, il quale ha denunciato la grave carenza di personale insieme ai rischi, a cui ogni giorno gli agenti sono sottoposti. Il più delle volte si tratta di aggressioni che si sarebbero potute evitare con l'impiego di maggiore personale, ha sottolineato il sindacato della Polizia Penitenziaria, che ha messo nero su bianco un dato in ogni sezione. Il poliziotto è solo con almeno 50 detenuti. Secondo il segretario nazionale di Paul Giust, Francesco Davide Scaduto, la forza numerica costituirebbe un fondamentale deterrente. Beni per 8 milioni di euro sono stati sequestrati a Pietra Perzia, nel Nisseno, a Felice Cannata, già condannato per associazione mafiosa. Nel tempo avrebbe reimpiegato capitali di illecita provenienza in attività produttive nel nord Italia, in particolare nei settori della compra-vendita di autovetture di grossa cilindrata. Coinvolto anche nell'ambito dell'operazione Trischelion, del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, per cui è stato poi condannato definitivamente. Adesso arriva la confisca dei beni, pari a 8 milioni di euro, a carico di Felice Cannata, esponente della criminalità organizzata ennese, già condannato con sentenze irrevocabili l'11 novembre del 2015, per associazione mafiosa per la sua appartenenza alla famiglia di Pietra Perzia. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Enna su richiesta della DDA di Caltanissetta ed è stato eseguito dalla Guardia di Finanza e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Hanno condotto un'indagine patrimoniale nei confronti del Cannata a partire dalla 2020, poi sfociata nel sequestro del 2018. I beni confiscati sono un'azienda agricola nell'ennese, 77 terreni ubicati in territorio nisseno ed ennese, 11 fabbricati tra Caltanissetta, Pietra Perzia, Pozzolo Martesana, Inzago nel milanese e rapporti finanziari e beni mobili registrati. Immigrazione, la prefettura di Agrigento tenta ancora una volta la ridistribuzione dei migranti che nelle scorse ore hanno affollato e affollano gli hotspot, in particolare quello di Lampedusa, quasi 2000 persone iniziati trasferimenti verso gli altri centri temporanei, 100 minori sono stati condotti a Catania. Ancora Grasso. Torna a riempirsi il centro di accoglienza temporaneo di Via Forcile a Catania, l'ex hub vaccinale, prima ancora ex mercato ortofrutticolo, dalla scorsa notte accoglie altri 100 nuovi migranti. Si tratta tutti di ragazzi non accompagnati, dunque minori che nei giorni scorsi erano sbarcati in vario modo a Lampedusa che poi sono stati trasferiti dall'hotspot dell'isoletta agrigentina avamposto degli sbarchi di immigrati in Italia e quindi in Europa sino al centro di Catania, da dove poi, su disposizione del Ministero di concerto con la Prefettura, verranno ulteriormente trasferiti a nuova destinazione. Tutto ciò perché Lampedusa, dopo alcuni giorni di pausa dovuti principalmente alle condizioni meteomarine, è stata nuovamente presa d'assalto almeno sino a ieri sera. Stamattina all'interno dell'hotspot si contavano infatti 1.605 persone, malgrado la struttura ne possa contenere appena 400. E così la Prefettura di Agrigento, di concerto con il Raviminale, ha riavviato il piano di distribuzione con l'obiettivo di svuotare l'hotspot che presumibilmente dovrà ospitare nuovi migranti da qui a breve, sebbene le condizioni meteomarine stirono nuovamente peggiorando. Dopo i 100 migranti minori trasferiti a Catania questa mattina, 300 persone sono state imbarcate sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle, così lasciandosi dietro le spalle Lampedusa. 30 andranno in Campania, 40 nel 1080 nel Lazio, 79 in Lombardia, 50 in Veneto, 10 a Villa Sicania e Siculiana. 11 minori non accompagnati, over 14 saranno invece ospitati ad Agrigento. In questa prima fase, in tarda mattinata, al decollo, anche tre voli militari diretti con 90 migranti ciascuno. A Crotone, Sigonelle e Pisa, domattina dovrebbe arrivare a Lampedusa la nave Dattilo della Guardia Costiera, che imbarcherà 600 persone e farà rotta verso Pozzallo. La Prefettura di Agrigento fa sapere che il piano è stato avviato con il coordinamento del Commissario per l'Emergenza e Immigrazione, Valerio Valenti, nonché con il supporto della Difesa, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. L'azione di evacuazione mira a far fronte alla continua emergenza, che si viene a creare a causa del sovraffollamento, conseguenza dei continui sbarchi. Il piano di evacuazione è che seguirà le procedure necessarie nel rispetto del leader di identificazione e di prima assistenza sanitaria, al fine di scongiurare eventuali condizioni di pericolo sia per gli operatori che per gli stessi migranti. Un turista tedesco è morto a Siracusa dopo un incidente con la bicicletta. Scusate, intorno alle 22.30 ieri stava percorrendo via Elorina, quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della bici, cadendo e sbattendo la testa contro un muro. La moglie che si trovava dietro all'uomo ma in auto sarebbe subito scesa nel tentativo di soccorrere il marito. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma quando il personale medico è arrivato l'uomo era già morto. Soccorsa anche la donna perché in stato di shock. A Catania la polizia di Stato ha arrestato un uomo per tentato furto aggravato di rame all'interno di una centrale elettrica dell'Enel in zona Zialisa. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo che in compagnia di un complice rimasto al momento ignoto si era introdotto nella centrale elettrica dello stradale Gelsobianco e dopo aver forzato la porta di un magazzino tranciandone un lucchetto era stato sorpreso nell'atto proprio di trafugare un cavo di rame. Cerca il possesso di un veicolo appunto, si tratta di un motocarro, si tratta di un mezzo privo di targa con il numero di telaio parzialmente illegibile e alterato per il quale il possessore non ha saputo indicare valida spiegazione circa la provenienza. Due pattuglie della sezione radiomobile di Catania sono intervenute la notte scorsa a San Giovanni La Punta dove è stato sventato un furto con spaccata presso un distributore di carburanti militari allertati da alcuni cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di tre individui incappucciati proprio nei pressi del distributore. Sono intervenuti e hanno notato la presenza dell'Alfa Romeo che vedete alle nostre spalle di colore rosso dinanzi alla saracinesca degli uffici dell'area di servizio utilizzata dai malviventi per infrangere la vetrata dello stabile e una volta all'interno forzare la cassa continua. Il denaro recuperato ammonta ad oltre 60.000 euro, i tre ladri sono stati bloccati dopo un tentativo di fuga ed una colluttazione. Un progetto che coinvolge all'unisono nonni e nipoti con l'obiettivo di promuovere ed alimentare la relazione tra le due generazioni. Oggi l'atto conclusivo dell'iniziativa promossa da Lions Catania Host. Francesco Larosa. Incrementare le relazioni intergenerazionali tra nonni e nipoti con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita sia dei giovani che degli anziani e questo in sostanza il fine perseguito dal progetto per le scuole nonni e nipoti promosso per le istituzioni scolastiche dall'Alliance Club International Host Catania in collaborazione con l'ente comunale. Tante le scuole catanesi che vi hanno aderito con gli studenti che nel corso dell'anno scolastico hanno trattato e discusso il tema producendo anche degli elaborati. Stamattina la manifestazione finale. Un progetto bellissimo ha coinvolto dieci istituti o perlomeno le ha coinvolte di più ma dieci poi hanno deciso alla fine di aderire e di affrontare la tematica come abbiamo proposto nell'ambito delle loro attività didattiche per cui ci hanno lavorato fin da ottobre e fino a pochi giorni fa. Poi hanno fatto delle scelte interne sul nostro indicazione naturalmente hanno scelto attraverso una commissione di professori i tre vincitori, un primo premio più due ex equo. Noi siamo andati in questa manifestazione, ciascuna per ogni istituto sono state dieci manifestazioni. Ci sono state come avete visto anche stamattina dei concerti, delle manifestazioni bellissime. Comunque noi abbiamo consegnato una targa ricordo al primo più un buono libro di 100 euro e poi una targa ricordo al secondo e al terzo e una targa ricordo anche alla scuola. Importante anche l'esaltazione della figura del nonno. Assolutamente sì, abbiamo visto in tutte le manifestazioni la partecipazione dei nonni, la grande emozione che c'è stata. Abbiamo visto che i ragazzi hanno riscoperto il rapporto con i nonni, i loro compiti sono delle bellissime testimonianze. Il nonno è importante come guida, non solo perché si supplisce all'assenza dei genitori che sono impegnati nel lavoro, ma come guida, come fonte di riflessione rispetto al passato. I nipoti sono importanti per i nonni perché consentono loro, come si dice spesso, di tornare bambini, cioè di rivivere le loro emozioni, di sentirsi giovani, di sentirsi attivi, di sentirsi vecchi e abbandonati. E spesso dimenticati da parte di tutti. Un collegamento tra generazioni. È un collegamento tra generazioni, è la storia che continua. Cioè proprio un collegamento, ma direi così, un passario testimone. Ma un passario testimone lungo parecchi anni, perché vale per i bambini molto piccoli, ma vale anche per i ragazzi adolescenti che spesso nel nonno, o nei nonni o nella nonna, possono trovare un supporto alternativo a quello dei compagni, laddove non se la sentono, di manifestare le loro difficoltà ai genitori, quindi non spesso può essere più facile. L'obiettivo è quello di combattere la dispersione scolastica in maniera efficace. Una scuola di San Giovanni Galermo in prima linea nella condivisione del progetto promosso da Save the Children. Ancora la rosa. Combattere la dispersione scolastica attraverso un progetto promosso da Save the Children, puntando anche sulle connessioni digitali. Un progetto sperimentale che, oltre alla formazione, ha previsto anche l'allestimento di una newsroom multimediale all'interno dell'Istituto di Guardo Quasimodo, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, realizzati tre podcast con partecipazione attiva da parte degli studenti. Un progetto che consente ai ragazzi di affrontare un argomento a loro molto caro, cioè la connessione digitale, però con una marcia in più, cioè poter utilizzare questo progetto per riuscire a individuare quali sono le reali competenze, riuscire a leggere e a informarsi online, a comprendere ciò che si legge, a interpretarlo, a sviluppare una coscienza critica, la capacità di utilizzare gli strumenti informatici non semplicemente per giocare, ma proprio per raggiungere gli altri e comprendere ciò che si fa. Quanto può servire tutto questo nel percorso didattico? Può servire tantissimo perché, come abbiamo visto oggi, anche durante l'incontro, grazie alla formatrice che ha seguito passo passo questo percorso, i ragazzi riescono a sviluppare le competenze critiche e riescono a sviluppare le competenze relazionali e questo è fondamentale perché la scuola, è vero che dà i saperi e sviluppa le conoscenze, ma se non si ha la capacità di discernere fra le conoscenze, non si ha la capacità di metterle poi in pratica quando si entra nella vita reale. Qual è stata la risposta dei ragazzi anche in un contesto di un quartiere tra i più difficili, forse, di Catania? La risposta dei ragazzi è stata eccezionale, sia oggi che durante anche l'altro incontro durante il quale abbiamo ascoltato la cittadinanza e ho potuto veramente notare come i ragazzi si siano formati e abbiano sviluppato queste conoscenze. Sono stati molto attenti, sono stati molto critici, hanno cercato di individuare le problematiche nel nostro quartiere e realizzare poi delle petizioni e fra poco metteranno in campo anche i podcast con una capacità critica particolare. Con la consegna delle reliquie di Papa Giovanni Paolo II alla cattedrale di San Gerlando di Agrigento sono entrate nel vivo le cerimonie organizzate in ricordo dello storico anatema del pontefice polacco contro la mafia ben 30 anni fa nella Valle dei Templi. Il 9 maggio del 1993 il Papa pronunciò parole durissime contro i boss invitandoli alla conversione. Le reliquie sono state consegnate da Omar Gianpaolo, Mohamed Ahmed e Danilo Otkanco autorizzati dall'Arcidiocesi quali corrieri diplomati. Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio, disse davanti alla chiesa locale a migliaia di cittadini. Una invettiva storica che ha segnato uno spartiacque nell'atteggiamento della chiesa contro la criminalità organizzata. Nel pomeriggio ad Agrigento è anche previsto un convegno per ricordare la giornata al quale al convegno parteciperanno tra gli altri il presidente del Tribunale Vaticano Giuseppe Pignatone e il presidente della CEIMO, signor Antonino Raspanti della Cesi. Adesso parliamo di Rino Nicolosi, il presidente dei siciliani. Il titolo del docufilm sulla figura del grande politico accese presentato stamani al Multisala Margherita di Acireale. Salvo Cutuli. Un docufilm sulla figura di Rino Nicolosi, politico di razza, governatore della Sicilia per sette anni consecutivi quando i presidenti venivano eletti dal Parlamento regionale e non dalla volontà popolare attraverso l'espressione diretta del voto. Nei palazzi del potere palermitano, ancora oggi a distanza di anni, i dipendenti lo ricordano con affetto e grande stima. Parlando di Nicolosi lo apostrofano come il presidente, promotore di molteplici iniziative sul piano amministrativo. Un uomo che aveva una visione da statista, figura di primo ordine della sinistra DC, scomparso nel 1998 in seguito ad un grave male. A distanza di anni dalla sua morte, dopo diverse proposte di realizzare un documento filmato a ricordo dell'uomo e del politico e regista, Marcello Trovato ha pazientemente tessuto la trama e portato sullo schermo il docufilm sul politico accese, il cui ricordo è ancora vivo tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua lungimiranza organizzativa e proiezione del futuro in un momento storicamente legato a radicazioni e contrasti sociali dettati da schieramenti contrapposti, fedeli ad ideologie, anche aspre in sala della democrazia, di cui oggi si è persa traccia. Tracciare un profilo del politico Rino Nicolosi nel vero lasso di tempo di un servizio televisivo è arduo. La visione del docufilm mette a disposizione un contributo per meglio comprendere cosa ha rappresentato Nicolosi, Rino, per quanti lo conobbero e ne seguirono lo straordinario percorso politico e umano. Marcello Trovato ne ha curato la regia. L'idea nasce un po' dal mio maestro, come dire, Mendi Cucuccio, che purtroppo scomparso nel gennaio scorso, e nel mio fare di occuparmi di audiovisivo un giorno mi disse perché non fare una cosa su Rino. Poi questa cosa fu un po' abbandonata. Un gruppo di ragazzi, anche impegnati in politica, di Acireale, mi propongono di realizzare questo progetto. Progetto che poi però non continuarono, non affiancarono, perché forse non se la sono sentita, non lo so. Io nel frattempo, per l'entusiasmo preso da Mendi Cucuccio e per l'entusiasmo anche mio personale, ho pensato di portare avanti il progetto. Avevo già intervistato Sebastiano Ardita, avevo intervistato Pierluigi Castagnetti, Bruno Tabacci, quindi avevo delle personalità importanti, delle testimonianze importanti dentro il film. Il Covid ha bloccato un po' il progetto, l'abbiamo ripreso e il propulsore assoluto di questo è stata mia moglie, Rossella, che ha voluto che continuassi, che realizzassi e portassi a compimento il progetto e l'abbiamo completato e oggi siamo qui finalmente. Alla conferenza di presentazione Ciloma Margherita di Acireale, stamani presenti i familiari del politico, l'assessore regionale agli enti locali Andrea Messina, il sindaco Stefano Lì e autorità civili e religiose Giovanni Bultone, sindaco di Militello in Val di Catania, uno dei più stretti collaboratori di Lino Nicolosi, un figlio politico da cui scaturì un'amicizia granitica, testimone diretto dell'azione amministrativa condotta dal presidente dei siciliani. Ricordo di un fratello, l'amicizia era un'amicizia profonda, vera, autentica e poi il ricordo del politico, un presidente straordinario per la Sicilia, la sua esperienza rimane irripetibile perché Nicolosi ha dato tanto alla nostra comunità, è entrato dentro i problemi e non erano problemi sollevati soltanto per lanciare un messaggio, erano problemi che poi venivano seguiti e portati avanti per trovare delle soluzioni. Io credo che il pensiero di Rino debba essere ancora illuminante per la politica, per quel che mi riguarda è un insegnamento che tengo da sempre e cerco di ispirarmi a quest'azione che era concreta, era leale, era proiettata per il futuro vero e migliore delle nostre comunità. Il passo indietro della Lega per l'unità del centrodestra a Catania, ma anche i prossimi appuntamenti elettorali dopo le amministrative di maggio, tra gli argomenti affrontati nella puntata di oggi dell'intervista con ospite in studio, il vicepresidente della regione siciliana Luca San Martino. Parleremo anche di agricoltura e di problemi connessi al comparto, collegato in diretta anche il collega Francesco Bianco, giornalista di ADN Cronos. Appuntamento alle 21 e replica domani alle 13 alle 23 e 30. Scolareschi e migranti minori ospiti nei centri di accoglienza, in piazza Immacolata San Gregorio di Catania per vivere insieme il Festival degli Aquiloni Multicultura in Gioco allo scopo di favorire i programmi di inclusione e di integrazione e promuovere anche il tema della pace. Salvo Cutuli. Il Festival degli Aquiloni Multicultura in Gioco è l'iniziativa itinerante è promossa dalla società cooperativa Eblea Servizi Territoriali a San Gregorio nel Catanese nell'ambito di un più ampio e articolato progetto di accoglienza e di integrazione rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie con il coinvolgimento dei minori migranti non accompagnati, ospiti nelle strutture e in collaborazione con la rete SAI, sistema di accoglienza e di integrazione che promuove attività di inserimento sulla scorta delle campagne nazionali dell'UNHCR e dell'Agenzia ONU, mondo della scuola e dell'associazionismo, insieme per condividere valori in gioco della multiculturalità, diritto all'istruzione e al gioco negati in molti paesi del mondo. La pace con le bandiere multicolore sventolate nella piazza immacolata degli alunni dell'Istituto Comprensivo Michele Purrello di San Gregorio e degli studenti del liceo artistico Emilio Greco che ha una sede distaccata nella cittadina san gregorese. La piazza del centro etnea presa d'assalto dai bambini delle scuole cittadine che hanno fatto volare gli Aquiloni, simbolo di messaggi di pace e fratellanza anticipati da pensieri scritti e recitate degli alunni con tema portante l'inclusione per una società più giusta ed equa. Il Comune di San Gregorio è indicato tra i più virtuosi della provincia nel settore dei servizi sociali. Sensibilizzare le nuove generazioni significa edificare una società migliore costruendo ponti e non barriere a sostegno di chi scappa da condizioni di grande disagio originato da guerre e fame. Abbattere simbolicamente gli ostacoli mentali significa realizzare percorsi di integrazione al di là del colore della pelle e dell'appartenenza religiosa. Uccio Muratore è uno degli organizzatori dell'evento lutico e ricreativo che coinvolge varie comunità dell'isola. Sì, abbiamo voluto prendere l'Aquilone, uno dei giochi più semplici per eccellenza e innalzarlo a gioco simbolo. Quest'oggi con i ragazzi che ospitiamo nella comunità per minori stranieri di San Gregorio abbiamo aperto le porte della nostra gioia e del gioco alle scuole san gregoresi. Affidiamo all'Aquilone il lancio di un messaggio di libertà, di pace, di integrazione che sono i concetti sui quali con le nostre echippe giornalmente lavoriamo per far integrare i ragazzi che provengono da ogni parte del mondo con le comunità ospitanti. È un progetto che si sviluppa su altre province? Sì, il Festival degli Aquiloni per volontà della nostra cooperativa si sta celebrando su tre province, la provincia di Enna, di Catania e di Siracusa. Oggi siamo qui a San Gregorio, domani ci sarà un gran finale proprio a Enna. Siamo già stati a Carlentini, Calascibetta, Troina e Centuripe. Ci spostiamo adesso a Mascali dove si lavora per la programmazione della stagione estiva in particolare a Fondachello. Il servizio è curato da Daniela Cantarella. Entra nel vivo a Mascali la programmazione del ricco cartellone estivo che intratterrà turisti e villeggianti per tutta la durata della bella stagione. Imparare dagli errori passati per correggere e migliorare sempre di più i servizi offerti. Questo è il modus operandi con cui l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ligi Messina sta costruendo l'estate mascalese nel lungomare di Fondachello chiamando a collaborare con riunioni e appuntamenti i vari operatori del settore coinvolti. Il primo incontro preliminare ha riunito commercianti e operatori food per progettare l'isola pedonale e la chiusura al traffico del lungomare dove anche quest'anno si terrà la notte bianca. Probabilmente, afferma il primo cittadino Messina, più di una. Questo sta comportando un'analisi di quello che può essere irrealizzabile perché ogni volta ci dobbiamo misurare con il realizzabile ma nello stesso tempo la grande buona volontà da parte di questa attività ci consentirà di fare certamente un bel programma come è stato fatto negli scorsi anni. Abbiamo delle ulteriori riunioni e verranno fatte questi programmi sulla base di quelle che sono le loro caratteristiche ma anche le loro possibilità. Ma nello stesso tempo abbiamo ideato, come soprattutto è avvenuto negli ultimi anni, la chiusura a tratte di Fondachello per fare delle isole pedonali. Questo avverrà probabilmente in qualche tratto anche su Puntalazzo. Nello stesso tempo stiamo lavorando per rivalorizzare quello che abbiamo fatto ogni anno con la fiera su Fondachello dove migliaia di persone ne usufruiscono il sabato sera e abbiamo un lavoro che stiamo sviluppando già da mesi con l'associazione dei Lidi, una delle due associazioni dei Lidi che addirittura in questi giorni probabilmente su loro richiesta gli consegneremo la pista ciclopedonale che consentirà a questo di valorizzare tutta l'aria perché la pista ciclopedonale non ha solo una funzione di salvaguardia di chi scende e si mette in sicurezza con i bambini, con tutto quello che è per rivolgersi al servizio della spiaggia ma nello stesso tempo è stata una realizzazione che ha consentito di collegare la frazione di Sant'Anna con Fondachello in modo molto diretto alla fine è un chilometro e sei e una passeggiatina e l'idea è quella di valorizzando la pista si potrebbero fare delle attività anche diurne e notturne che collegano tutti i Lidi che sono lungo il percorso e che ne valorizzano allo stesso tempo le serate con delle organizzazioni che loro cureranno A proposito di serate si guarda anche alla notte bianca? Sì, stiamo lavorando per fare un discorso di notte bianca ma speriamo di farne più di una Nello stesso tempo probabilmente se riusciamo nella parte centrale dell'estate per 15 o 20 giorni faremo un'attività di mostra all'artigianato all'interno di Fondachello chiudendo solo una piccola parte e cercando di evitare il problema che noi spesso abbiamo quello della viabilità Attenzione anche al rispetto delle regole in materia di occupazione di suolo pubblico delle ordinanze che regolano la movida le emissioni sonore e l'intrattenimento rimanendo però nell'ottica di assicurare una meritata atmosfera vacanziera e spensierata a villeggianti e turisti Noi abbiamo degli orari che io ho fatto un'ordinanza qualche anno fa dove si arriva, se non ricordo male, fino a l'una di notte di poter fare la musica o l'uno o l'uno e trenta di notte e questo consente in un luogo prettamente turistico di poter fare musica sempre nei modi dovuti, nei modi rispettosi delle persone che magari vogliono non soffrire direttamente della musica ma nello stesso tempo dobbiamo dare la possibilità ai giovani, alle famiglie di poter vivere il mare e vivere quei due mesi in modo più spensierato possibile e speriamo soprattutto che con il lavoro che abbiamo fatto che poi approfondiremo più in là quello di fare una valorizzazione del mare per la pulizia del mare lo scorso anno noi come comune abbiamo avuto penso siamo stati uno dei pochi abbiamo avuto il coraggio di chiudere 270 appartamenti è il momento adesso dello sport il Catania chiude con una sconfitta la stagione regolare seconda battuta d'arresto nell'arco dell'intero campionato i rossazzurri cedono di fronte ad un Trapani che ha giocato meglio nel primo tempo usufruendo però nella seconda parte di gara di evidenti sviste arbitrali l'inizio è sottotono per la squadra allenata da Ferraro con il Trapani che capitalizza al massimo una distrazione nella difesa etnea Francesco Catania scocca il diagonale vincente che supera Betters dopo soli otto minuti la capolista stenta a riorganizzarsi e il primo tempo scivola via senza ulteriori sussulti nella ripresa mister Ferraro da fondo a tutte le sue risorse offensive alimentando il reparto avanzato che però non è brillante come in altre occasioni De Luca fallisce delle favorevoli opportunità e a Ciccio Rapisarda viene inspiegabilmente annullato un gran gol con palla all'incrocio dei pali a causa della cervellotica decisione delle guardaline che vede un tocco inesistente di Sarau in posizione di offside il Trapani resta quindi in dieci uomini per l'espulsione di Kosovan ma il Catania alle polveri bagnate giustificate recriminazioni anche per l'operato dell'arbitro che nega i rossazzurri due evidenti penalty prima per un atterramento avvenuto all'interno dell'area di rigore è reputato invece fuori e poi negli istanti di recupero con un evidente tocco di mani di un difensore trapanese inutile le proteste di Lodi e compagni con la sconfitta che è matura inevitabile nessun dramma in Casa Rosso Azzurra adesso l'attenzione è concentrata essenzialmente sulla pulscudetto di Lettanti che dovrebbe vedere il Catania opposto al Sorrento in occasione del primo turno del triangolare con questa notizia noi ci fermiamo diamo la linea alla regia per i comunicati commerciali rieccoci in diretta il momento delle previsioni meteo Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani martedì 9 maggio il cielo continua a mantenersi piovoso almeno nell'entroterra e sul versante orientale dell'isola in particolare sul Messinese e nella zona sud orientale tra Siracusa e Ragusa nel Palermitano, nel Trapanese e nell'Agrigentino invece così come nel Catanese qualche schiarita in più i venti saranno moderati i mani leggermente mossi le temperature sul capoluogo Etneo si mantengono pressoché invariate sia minime che massime rispettivamente di 16 e 21 gradi centigradi massima questa percepita nel Catanese in tandem con Agrigento tra le più alte dell'isola mentre le temperature più basse tra Enna e Ragusa con 11 gradi centigradi è tutto per questa prima edizione noi vi ringraziamo per averci seguito e preferito e vi auguriamo un buon proseguimento di pomeriggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti